Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 966 di One Piece, spiegare cos'è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Non so come descrivere questo capitolo, perché è stato davvero qualcosa di fantastico, cioè abbiamo visto per la prima volta Roger in azione, ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Il capitolo inizia subito col botto. Infatti Oden senza nessun preavviso si lancia a capofitto contro la ciurma di Roger, sconfiggendo alcuni dei suoi uomini senza problemi. Il futuro re dei pirati, con una scusa alquanto banale, ferma i suoi due migliori uomini, ovvero Scopper Gaban e Silver Rayling, solo perché voleva essere lui ad affrontare il samurai. Ma purtroppo il buon Oden se la vede male, infatti il futuro re dei pirati con un solo colpo lo scaraventa centinaia di metri lontano. Ma nonostante ciò, il Kozuki non riceve molti danni, ma rimane comunque sorpreso dalla potenza di Kostui. Ed ora finalmente arriviamo ad una delle scene più epiche mai viste in One Piece, a parer mio. Infatti i due capitani iniziano a scontrarsi e imprendiano di Aki le loro armi, ma ancora prima che quest'ultime si scontrassero, un'esplosione avviene al centro delle stesse. E solo da questo possiamo capire la straordinaria potenza di queste due bestie. Ovviamente dopo il clash delle loro armi tutto l'ambiente circostante viene mosso dall'incredibile onda d'urto che si è venuta a creare dai due capitani, e dopodiché ebbe inizio la battaglia tra le due ciurme pirata. Vorrei aprire una piccola parentesi, a quanto pare quest'uomo pesce che vediamo nell'ultimo capitolo non è Seagull, dato che lo vediamo qui. Quindi chi è quell'uomo pesce? Naturalmente non è Tommy il Carpentiere, infatti potete vedere anche voi che sono totalmente diversi tra loro. Chiuso parentesi. Ovviamente il buono Oda taglia tutta la battaglia, che durò per ben tre giorni senza avere né vincitori né vinti, e nel quarto giorno le due ciurme pirata iniziarono ad andare ad amore e d'accordo, e si dividevano anche i tesori, e nello stesso istante vediamo Buggy parlare con il suo migliore amico, presuppongo. Gli dice che quel tizio, ovvero Tic, non ha mai dormito neanche durante le tregue, e confermo ulteriormente che una persona come lui non ha mai avuto bisogno di dormire in tutta la sua vita, e il rosso risponde dicendo delle cose molto interessanti, ovvero che, se non si dormisse si avrebbe il doppio del tempo per fare tutto ciò che si vuole, forse il mangaka ha voluto darci un piccolo indizio sul segreto di Barba Nera. E soprattutto ora possiamo iniziare a capire alcune frasi dette in passato che riguardano questo strano tizio, come per esempio quando Ace disse che lui abbia vissuto una doppia vita, o Marco che allude che egli sia riuscito ad avere il potere di due frutti grazie al suo corpo, dato che non è come un normale essere umano, e tutto ciò inizia ad avere un po' di senso dopo la frase di Shanks in quest'ultimo capitolo, nel senso che, Barba Nera, grazie al suo non dormire mai, è riuscito a vivere il doppio della sua vita, cioè che non dormendo è riuscito a fare il doppio delle cose che farebbe un normale essere umano, che ha ovviamente bisogno di dormire. È possibile quindi che all'interno di Tic vivano due persone? Difficile da spiegare, ma è probabile che mentre uno dorma l'altro stia sveglio e viceversa, e così facendo, agli occhi di chi guarda dall'esterno, lo vedrà sempre sveglio, o banalmente parlando, è proprio un suo problema dalla nascita, ed è possibile che sia sempre stato triste per via di questa cosa, e non solo per la perdita dei suoi familiari. Dopodiché avrà pensato di usare a proprio vantaggio questo problema, riuscita addirittura ad assimilare il potere di due frutti del diavolo. Comunque siano fossilizziamoci e andiamo avanti. Qui entriamo nel vivo del capitolo. Infatti, Roger, Newgate e Oden si mettono in disparte a parlare, e Roger fa vedere degli strani simboli al Kozuki, e quest'ultimo spiega che li conosce e sa anche cosa c'è scritto, dato che il modo di decodificarlo viene tramandato da generazione in generazione al primo genito del clan Kozuki. Sentito ciò, Roger aggiunge che ha preso questo calco dopo aver raggiunto l'ultima isola, ossia quella che può essere raggiunta solo dopo aver seguito la rotta designata dei logpoz, cioè Lodestar. Finalmente, e ripeto, finalmente sappiamo il nome di questa enigmatica isola. Io vi avevo detto che non era God Valley l'ultima isola. Infatti, Roger dice che sono stati gli unici a riuscirci, e ci sono riusciti ben 13 anni fa, e arrivando lì capirono che non fosse quella l'ultima isola, ma che ce ne fosse sicuramente un'altra. Infatti, Roger spiega che ci sono appunto queste quattro gigantesche pietre rosse, che dovrebbero indicare la vera ultima isola. Ma dato che il governo aveva vietato di decifrare tale pietre alcuni anni prima, pensava che fossero oggetti ordinari. Ma poi capì, o per meglio dire, scoprì, forse grazie al suo potere di sentire la voce di tutte le cose, che grazie a quelle quattro pietre rosse si poteva raggiungere la gognata ultima isola. E dato che il governo non vuole che nessuno la raggiunga, è tale cosa conferma che al di sopra di essa è nascosto un tesoro di inestimabile valore, e aggiunge che se raggiungesse quell'isola, diventerebbe e poi il silenzio. E Barba Bianca sbeffegge il povero Roger chiamandolo bambino, ma sappiamo tutti cosa volesse dire, cioè diventerebbe il re dei pirati. Oden rimase ulteriormente stupito da questa persona, e Roger supplica a Barba Bianca di prestargli Oden per un anno, perché grazie a lui riuscirà in questa sua impresa, e per far sì che accetti il futuro re dei pirati si inginocchia, e questo ci fa capire quanto la sua volontà stia influendo nella sua vita. Il suo destino deve essere quello, e deve fare di tutto per riuscire a compierlo, anche inginocchiandosi davanti ad uno dei suoi nemici. Naturalmente Newgate inizia ad adirarsi, mostrando la sua ira attraverso il potere del suo frutto. Oden però vuole scoprire perché c'è questo collegamento tra la sua famiglia e queste strane pietre, e quindi chiede se potesse andare con Roger. Barba Bianca sembra disgustato dalla decisione del suo uomo, ma mal in cuore accetta, dato che starà nella ciurma di Roger solo per un anno. Oden saluta la ciurma di Barba Bianca, e i suoi vassali decidono di rimanere sulla Moby Dick ad aspettarlo. Roger, per ringraziare Barba Bianca, gli dona tutti i suoi tesori e alcune provviste. Ma Newgate dice di restituirglieli, se no la famiglia di Oden morirebbe di fame. E fu così che iniziò il secondo viaggio di Kozuki Oden. Possiamo notare, come sempre, quello strano uovo posto al di sopra della Oro Jackson. Vabbè, sapevamo che ci fosse, dato che un anno prima i pirati di Roger affrontarono i pirati di Shiki, però è sempre strano vederlo e soprattutto ti fa pensare. E che forse avremo qualche notizia in più su questa strana cosa durante il viaggio di Oden con il futuro re dei pirati. Continuando, trovo molto interessante le frasi che dicono Roger e Rayling quando vedono i figli di Oden. Cioè, il capitano dice che è davvero da tanto tempo che non prendeva un bambino in braccio, ma sappiamo che esse nacque dopo la sua morte. Quindi, a chi si stava riferendo il capitano. Io credo che si stesse riferendo a Shanks o a Buggy o ad entrambi. Ed è per questo che sono gli unici bambini che fanno parte della sua ciurma, proprio perché stanno lì da quando sono nati. E dato che entrambi hanno 13 anni ed in quel momento della storia la ciurma di Roger era giunta sull'Odenstar, e l'anno seguente avvenne l'incidente a God Valley, forse i due ragazzini sono collegati alle vicende che accadero sull'isola della sconfitta dei Rocks. E se vogliamo spararla grossa, è possibile che sull'ultima isola ci fosse una specie di civiltà, e che Shanks e Buggy provengano proprio da lì. Anche il re oscuro dice una strana frase, cioè che vede la sua infanzia in questi due bambini. Forse gli ricorda i momenti felici e spensierati che aveva avuto quando era solo un bambino. Comunque sia, l'equipaggio di Roger trovano delle spie a bordo, e quelle spie non sono altro che il cane e il gatto. Vabbè, sapevamo che fossero andati con Oden, ma sappiamo che non sono andati su Lough Tale, chissà perché. Continuando, Oden riesce ad avere l'approvazione della ciurma di Roger grazie ai suoi manicaretti. Forse avrà preparato dell'Oden. Quindi possiamo dire che il Kozuki è il re il cuoco della ciurma del futuro re dei pirati. Passa il tempo e a Roger gli rimane solo un anno di vita, ed è per questo che va di fretta. Ma sappiamo che la fretta è cattiva consigliera. Comunque sia, arrivano sull'isola del cielo, come ben abbiamo saputo dalla saga di Skypea. Roger, grazie al suo potere di sentire la voce di tutte le cose, riesce a trovare la pietra che si trova al di sotto della campana d'oro. Il capitano sapeva benissimo che sulla pietra ci fossero delle info riguardante un grandissimo potere. Infatti sappiamo che su quel Ponyagriff ci sono informazioni su Poseidon, una delle tre armi ancestrali. Poi finalmente vediamo Oden all'opera. Infatti il Kozuki scrive quella famosa frase che avevamo sentito dire da Robin tantissimi anni fa. Vi giuro, dopo aver visto questa scena mi sono venuti brividi. E purtroppo il capitolo finisce qui. Super capitoli su super capitoli. Io non vedo l'ora di scoprire il tutto, ma non penso che Oda svelerà l'aspetto di Laugh Tale in questo flashback. Forse vedremo solo Oden che racconta lo sbarco sulla leggendaria isola. Comunque sia, penso che Roger nonostante riuscisse a sentire la voce delle pietre, quest'ultime non rivelassero tutto ciò che stava scritto su di esse, ma raccontavano qualcosa che potesse avvicinarsi. Infatti, se non fosse stato così, a cosa sarebbe servito Oden? Comunque, se ci pensiamo bene, già sappiamo più o meno dove andranno, dopo Skypiea. Andranno sull'isola degli uomini pesce e lì Roger sentirà la voce del re del mare. Poi dovrebbero andare su Zunisha, dove si trova uno dei quattro Rod Pognagriff. E lì, sia lui che Oden riusciranno a sentire la voce di Zunisha. In seguito dovrebbe intrufolarsi a Totland, per fare il calco dell'RPG che possiede Big Mom. Ci sarà, spero, qualche altra scena inedita e poi andranno su Laugh Tale, dove troveranno quel tesoro. E penso che quel gigantesco tesoro sia a tutti gli effetti il One Piece. Il video è finito, seguitemi anche su Instagram se vi va, troverete il link in descrizione e nel primo commento. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pumpling, link in descrizione, e usando il codice ILGUN91 avrete diritto al 20% di sconto. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo, non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy e noi ci sentiamo in un prossimo video.